va bene ti ascolterò ma 3 milioni e 500 mila trasmissione e ci saluta rimarrebbero esclusi dalle nuove produzioni facciamo con 499 mila perché questo vi danno e chi a girosi vivere bastardi informazione, informazione, televisione, televisione, informazione, televisione una nuova droga legalizzata, televisione, televisione, informazione, televisione voglio vedere, capire del mondo, televisione, televisione, vite perfette, ma sicurate, televisione e un altro battaccio avviene la via arrivano di corsa ma sfide polizia sperando che ci siano sangue e morti a volontà e l'indice d'ascolto al cielo salirà dicono che i giovani non hanno più valori giudono dall'alto puntando ai riflettori e intanto tutti crescono attici e pubblicità taccati ad una scatola senza dignità l'informazione isterica rincorsa a duro scu sono troppe le persone condizionate alla tv informazione isterica rincorsa a duro scu sono troppe le persone condizionate alla tv la televisione è scuola di violenza e proprio per questo dobbiamo usare la concludenza quando una sola mela è marcia nel contesto purtroppo in breve tempo marcisce tutto il resto anche noi siamo toccati le esigenze di mercato tranchiamo sul più bello finale mozza piatto per un consiglio di regia fermi alle trasmissioni pubblicità regresso e culo alla nazione per un consiglio di regia fermi alle trasmissioni per un consiglio di regia fermi alle trasmissioni Grazie a tutti.